Io vivo sempre insieme ai miei capelli Ham, Ham! Dum! 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 Du-du-du-du-du! Com'è la canzone Il Super Quark? Du-du-du-du-du-du Antichi romani usavano la piastra per modellare i propri? Marco ma prima come non è! Marco.. fai così di nuovo, fai così di nuovo! Marco sorridi! No, con i denti, con i denti! E' bellissimo! Questo video si chiama la Trasformer. Non ti vede, stai ti faccio la foda. Iau, fammi vedere, com'è? Ma no, frena! Immagina i più corti, la metà di quanto tu. Ma io mi sono fatta crescire apposta! Iau, chi è? Iau, chi è? Tommi qui, Tommi qui! Ma, ma chi è? Ma chi è? Ma io non vincio! Ma chi è un idiota? Allora, chiamiamo i barcchieri? Faccio cagare! In questo momento stiamo guardando. Faccio cagare. Marco? Che va a cagare! Però, considerando che... Che va a cagare! Allora, il taglio fino a mezza, l'ha fatto Luca. Che Luca? La luce mi ha tagliato. Ti ha tagliato tutto. Perché l'ha fatto? Tutto non mi ha tagliato. Poi, poi... Vabbè, ma io... È riccio! È riccio! È riccio! Per farle crescere. È riccio! È riccio! È riccio! Noi ce l'abbiamo provato. Ma chi gli taglia di capelli avanti? Sì! No! Che... 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 Che è tagliato? No! Vanno male! No! Non da forbice! No! No! Devo strappare! Guardate! 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 Sono pronto! Sono pronto! All'ultimo grido! 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 Questo è l'ultimo! È poco voloso! Oh! Magno! Questo è tutto? Da Luca! Da Lucio? Da Lucio? Da Lucio? Luco! 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 Da Luco Lucio? Da Luco e Paola è tutto! E dai dobbini è tutto!